Musica Ciao a tutti amici e benvenuti finalmente in questo nuovo video Scusate se porto il cappello ma ho dei capelli che vogliono veramente cagare Quindi ho detto portiamo il cappello invece di fare figure di merda Comunque, questo sarà un video un po' diverso dal solito Perché non sono in sala mia moto e non sono in sala nessun altro tipo di moto Ma visto che sono andato a Brescia all'urban show Dove fanno freestyle Ho detto registriamo un video e portiamo sul canale Le riprese non sono state fatte bene perché c'era tanta folla, tanto casino E non si riusciva a fare bene Però comunque ho fatto un po' di video e le clip migliori ve le ho messe Quindi godetevi il video Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto Lasciate un like se vi va, un commento se vi va E quindi io vi lascio al video Bella Ciao 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 C'è Grazie a tutti. Grazie a tutti.